Buongiorno a tutti, oggi parliamo di economia giusta, parliamo di economia giusta perché l'economia giusta conviene, questo è un po' il tema centrale, conviene perché diverse analisi condotte negli ultimi anni hanno dimostrato come i paesi che hanno più giustizia in economia hanno anche più efficienza in economia, in termini di minori costi sociali, in termini di un minor numero di persone incarcerate, un minor numero di persone malate, una maggiore produttività, in generale c'è questo tipo di constatazione, questo porta con sé la necessità però di chiarire cosa vuol dire giustizia in economia, perché se si vuole intervenire per produrre più giustizia in un sistema economico bisogna capire prima quali sono le aree sulle quali intervenire, queste aree sono essenzialmente due, o meglio ci sono due indicatori che misurano il grado di giustizia di un'economia, il primo si chiama indice di Gini, dal nome di uno statistico che lo defini italiano tra l'altro, un secolo fa, si può chiamare anche indice di diseguaglianza economica e sociale, il secondo è il grado di mobilità intragenerazionale, l'espressione complicatissima che vuol dire una cosa semplice, quanto una persona che nasce povera ha la possibilità nell'arco della sua vita di diventare benestante grazie al suo merito, grazie alla sua capacità. Il punto fondamentale è che è la combinazione di questi due indici che può essere virtuosa o viziosa, per esempio una società che associa un alto indice di diseguaglianza economico e sociale, cioè molto diseguare la distribuzione dei redditi, ha un grado di mobilità intragenerazionale basso, quindi una società dove nasci povero e rimani povero, è la peggiore società più possibile, la più ingiusta possibile, perché associa a una situazione dove ci sono pochi ricchi che possedono tanto e molti poveri, una situazione in cui quei molti poveri non hanno speranza. All'opposto abbiamo sistemi economici dove ci sono alte probabilità, se tu nasci povero, di diventare benestante, che non vuol dire diventare Bill Gates, vuol dire conquistarti una posizione sociale grazie alla tua capacità, che associano a questo tipo di condizione un indice nella diseguaglianza, nella distribuzione dei redditi attraverso la società nelle diverse classi sociali, basso. Allora, che società abbiamo in questa condizione e che società abbiamo nella condizione opposta, cioè quella più diseguale? Stiamo in Europa per andare sul semplice. L'Italia è certamente in una delle condizioni peggiori, è in una delle condizioni peggiori perché negli ultimi anni in particolare ha visto l'indice di Gini crescere in maniera importante, quindi cresce la diseguaglianza economica e sociale. Al contempo il grado di mobilità intragenerazionale in Italia è tra i più bassi in assoluto in Europa. Non è un caso che in Italia ci sia un vero e proprio esodo dei giovani verso paesi esteri. Questo è indotto dal fatto che quando tu sei in una società che dà poca speranza rispetto al futuro e al miglioramento tuo come persona e sei una persona capace, sei indotto ad andare via. Questo tipo di situazione è una situazione dal punto di vista della prospettiva viziosa perché più persone capaci vanno all'estero, più si crea una condizione di fondo nella quale anche se tu dopo volessi ritornare ad applicare delle prospettive, a dare delle prospettive, rischi di non avere poi più le persone, cioè i cervelli che sono in grado di perseguirle. Da questo punto di vista l'Italia non è solo una società diseguale o più diseguale dal punto di vista economico, è meno ricca di speranza, è anche una società che sta diventando sempre di più un'economia delle braccia e sempre di meno un'economia dei cervelli. In campo opposto, se volete dall'altro lato, abbiamo i paesi scandinavi, da Rimarca, Norvegia, Svezia, cioè paesi che sono esattamente nella condizione opposta, dove, e occorre anche qui sfatare un mito, non è che si realizzi una maggiore uguaglianza economico e sociale attraverso una tassazione che finisce per diventare oppressiva, perché nessuno può negare il fatto che in Danimarca ci sia una tassazione elevata, però la tassazione sul reddito di impresa in Danimarca è nettamente più bassa di quella che abbiamo in Italia. Il punto è dove tu vai a mirare lo sforzo di tassazione, la Danimarca è un paese dove sulle attività produttive tutto sommato si tassa meno che in Italia, si tassa di più sui patrimoni. Non c'è nulla di nuovo in questo su cui bisogna ragionare se si vuole, e questo è se volete il punto di riflessione ulteriore, cosa si fa per far diventare una società che è ingiusta più giusta? Bisogna certamente dare meno peso alle tasse che vanno a lavorare sul lavoro e sull'impresa, sul rischio, quindi abbassare quel tipo di pressione fiscale e aumentare quella che va in direzione dei patrimoni e delle rendite soprattutto. E questa è l'impostazione di fondo su cui lavorare, liberando l'oppressione a livello di tasse sul fronte del lavoro e del reddito del capitale di rischio, si favorisce poi lo sviluppo di attività imprenditoriali, lo sviluppo di attività ad alto valore aggiunto che sono tipicamente per una logica che poi è anche nella vita, nel senso delle cose, cioè chi è più giovane ha più volontà di intraprendere e vanno nella direzione dei giovani. Quindi l'economia giusta è un'economia che lavora su queste due grandi variabili della società cercando di sfavorire la rendita e favorire le attività da capitale di rischio e il lavoro. Dall'altra parte ci deve essere una forte consapevolezza che occorre ridurre progressivamente la diseguaglianza economica e sociale, non per arrivare a tutti uguali, ma per poter determinare nella società delle opportunità anche per chi non ha per eredità o per censo la possibilità di partire più avvantaggiato. Da questo punto di vista è indubbio che i paesi di cui parlavamo prima, i paesi scandinavi, sono paesi che su due leve non transigono. La prima e la più importante è l'accesso a istruzioni di qualità per tutti e la seconda è la presenza di un sistema sanitario importante per tutti. La prima in particolare è un determinante della mobilità elevata intragenerazionale, perché se io a una persona che nasce povera non do, diciamo da 0 a 18 anni, la possibilità di accedere a un'istruzione di elevato livello, sto già creando le premesse per impedirgli di elevarsi socialmente, non gli do il know-how per farlo in pratica. L'accesso ad istruzioni di alta qualità è una condizione sine qua non, per tutti però questo accesso. Ce lo insegna anche la storia economica, cioè le società, quelle scandinave, ma anche altre società, il Giappone prima di entrare nella stagnazione che lo interessa attualmente, che lo è interessato negli ultimi 15 anni, o la Germania di quasi un secolo fa, erano nazioni che avevano una grandissima consapevolezza dell'importanza della leva istruzione per determinare, non oggi, ma domani, una maggiore produttività dei propri cittadini e anche una maggiore eguaglianza. A mio avviso c'è questo falso mito, cioè non sia possibile aumentare la giustizia sociale se non a prezzo di una maggiore produttività, questo è falso e lo dimostrano le produttività pro capite dei paesi scandinavi. La seconda è che da questo punto di vista non c'è nulla da inventare, ci sono già pensieri nella storia economica e politica del secolo scorso che ci possono ispirare nella direzione di questa economia più giusta. In Italia abbiamo avuto un grande presidente della Confindustria come Angelo Costa, il quale negli anni 50, 70 anni fa quasi, diceva che un paese che favorisca la rendita oltre il tempo di una generazione è destinato al declino, quindi stigmatizzando in modo molto chiaro il problema, non si può favorire la rendita, bisogna invece favorire l'intrapresa, il merito e tutto quello che è legato alla produzione di posti di lavoro stabili. Dall'altra parte il tema della diseguaglianza economica e sociale, a me piace sempre citare questo tipo di pensiero di Roosevelt, il quale affermava più o meno quanto segue, cioè che non è quanto noi riusciamo a dare a chi ha già abbastanza che misura il nostro grado di progresso, ma è quanto noi siamo in grado di dare a chi non ha abbastanza che misura il nostro grado di progresso.